In termini generali si potrebbe con diritto asserire che la mondializzazione è un americanismo e lo è essenzialmente per due ragioni. In primo luogo la mondializzazione è un americanismo perché corrisponde di fatto all'estensione planetaria del modello dell'American Way of Life, ossia alla subcultura nichilistica del consumo che tutti i valori sacrifica a beneficio dell'unico valore superstite e il valore di scambio. Da questo punto di vista e senza esagerazioni la mondializzazione corrisponde alla dinamica con cui il mercato capitalistico americanocentrico si espande sans frontières e diventa modello unico. In termini convergenti potremmo altresì sostenere che la mondializzazione è di fatto il passaggio del mondo intero sotto la potenza subculturale americana che svuotando ogni realtà simbolica e di senso tutto riconduce alla nuda logica del valore commerciale economico e alla forma merce che si erge ormai a unico paradigma dominante nonché universalmente riconosciuto. In questo senso potremmo ancora rammentare come la mondializzazione sia il modo in cui il nuovo totalitarismo glamour e trendy dei consumi con integrale liberalizzazione dei consumi e dei costumi si pone come il solo consentito. Il mondo intero deve americanizzarsi, deve passare sotto le insegne a stelle e strisce. Ecco allora che la mondializzazione lungi dal coincidere con quell'irenico processo di estensione dei diritti corrisponde al contrario al passaggio coatto del mondo intero sotto il modello subculturale americano del nichilismo del consumo e dello scambio di merci. La figura egemonica, mediante quella che con Pasolini potremmo qualificare come una mutazione antropologica, è quella dell'homo consumens che è al tempo stesso un uomo vacuus, un uomo svuotato, alleggerito da ogni identità, da ogni simbolo e riconfigurato integralmente come semplice erogatore di forza lavoro flessibile precaria e come consumatore di merci. In secondo luogo e in maniera potremmo così dire simmetrica rispetto alla prima, la mondializzazione è un americanismo perché questo processo di passaggio del mondo intero sotto il segno della forma merci americanocentrica corrisponde di fatto al passaggio dell'intero pianeta sotto la potenza geopolitica del nuovo leviatano talassocratico della civiltà del dollaro. Perché in effetti la mondializzazione capitalistica procede in due maniere interconnesse. Per un verso manipola le coscienze e procede mediante il modello MTV, ossia colonizzando l'immaginario e ortopedizzandolo in senso glamour, liberal libertario e cosmopolita, denazionalizzando integralmente la coscienza, globalizzando gli spiriti e distruggendo linearmente ogni forma di resistenza culturale. Sicché abbiamo per un verso un imperialismo culturale che occupa le coscienze e le riorienta in forma americanocentrica e consumista. Ove tuttavia questo modello di imposizione coattiva dell'americanocentrismo dei consumi, incontri e resistenze, lì allora il capitalismo, per dirla con Marx, torna a grondare sangue e sporcizia dalla testa ai pori. Lì il capitalismo torna a utilizzare la violenza nelle sue forme dirette e colpisce tutti colori quali osino resistere alla sua avanzata. Abbiamo allora l'americanismo come forma di dominio neoimperiale, che la globalizzazione è di fatto la nuova figura dell'imperialismo onnipervasivo e onni includente, mediante il quale il mondo intero deve essere occupato dalla potenza geopolitica americana. Curiosamente l'Evos chiusosi col 1989, l'epoca che Habermas chiama post-nazionale, la costellazione post-nazionale, è quella mediante la cui l'americanismo dissolve tutti gli stati nazionali e al tempo stesso universalizza come unico stato nazionale consentito quello a stelle strisce, il leviatano talassocratico del dollaro, che deve sussistere come unica potenza nazionale riconosciuta e tale da sottomettere tutte le altre, le quali, qualora osino resistere all'avanzata dell'unico potere rimasto legittimo dopo il 1989, vengono ipso facto diffamati come stati canaglia e conseguentemente trattati, mediante bombardamenti etici, interventismi umanitari, embarghi terapeutici e al tempo stesso mediante l'esportazione missilistica della democrazia made in USA. Ecco allora che l'americanismo è la forma della mondializzazione, ossia il riallinearsi del mondo tutto all'ordine globale centrato sul Washington Consensus. Grazie a tutti!